Cosa è accaduto nella live di giovedì? Quali sono state le carte che sono riuscito a trovare durante il box break? E la tanto famigerata Ace versione manga avrà fatto la sua tanto attesa comparsa? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Giovedì alle ore 16 ho tenuto una live sul canale dove è successo davvero di tutto. Infatti le bustine presenti nei box mi hanno e hanno regalato grandi emozioni sia al sottoscritto che agli ospiti che mi hanno accompagnato durante la diretta raggiungendo il picco massimo proprio quando ha fatto la sua comparsa una delle carte più attese di questo set. Prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Per voi è solamente un clic del mouse o un tap sullo schermo dello smartphone. Per noi invece è molto importante così riusciremo a creare e apportare contenuti sempre più interessanti e ricercati. Grazie infinite in anticipo. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme attraverso gli highlights della live dello scorso giovedì cosa ci hanno riservato i quattro box di Paramount War. Andiamo a dargli un'occhiata. Andiamo ad aprirne un'altra. Allora. Don per voi signori un po' alla Pokémon maniera. Trafalgar. Kid Jew. Deathwing. Domino. Ottima carta. Usoppo. Doberman. Full Body. Gecko Moria. Ancora Squard. Un nome impronunciabile. Little Sadie e Monkey D. Garp. Monkey D. Garp credo che questa sia anche la versione... questa dovrebbe essere l'alt. veramente bellissima questa qui, signori. Meravigliosa. Continuiamo questo unboxing. Vediamo un po'. Speriamo che Carrot non ci ha portato sfortuna. Donna a parte. Solitario. Dogura. Impel. Trafalgar. Strawberry. Henry. Signori. Crocodile. Ok. Doberman. Don Quixote. Do Flamingo. Diablo Jump. Venetian Shot. Curly Dadan. Ottima carta. Un piccolo intramezzo. Un'ottima carta per il mazzo di Zoro. Must have, davvero. Mr. Due. Mr. Due. Bellissima. Questa è una... un'immagine magnifica di Mr. Due. E... Nami. Molto, molto bene. Una Nami SR. Sì, infatti, Luis. Due bustine completamente uguali. Sembra fatta apposta. Tanto, signori, deve uscire ancora tutto qui, praticamente. Donna a parte. Jinbe. Blenheim. Yasakani Secret Jewel. Ottima carta. Blugori. Sono sicuro che la Yasakani si giocherà in molti mazzi neri. Komil. Kabaji. Tassigi. Nico Robin. Ice Age. Ottima carta. White Bay. White Bay, signori, se ne sentirà parlare. Little Sadie è... Emporio Ivankov. Emporio Ivankov. Ciao, Giorgio. Benvenuto. Grazie infinite, Luis. Grazie infinite. Allora. Ecco il Don. Ricordo ancora di iscrivervi se non lo avete fatto. Venom Road. Nekomamushi. O Cat Viper. Non so per quale motivo su Dev viene chiamato Cat Viper. Ma credo che sia la traduzione di Neko. Neko sicuramente è gatto, quindi Mamushi sarà Vipera. Touch. Non posso continuare a dire i tua perché sennò mi buttano giù il canale. New Kamaland. Moji. Mi sento, Maru. Komil. Nico Robin. Bartolo Miukuma. Minotaur. Baghiè. Borsalino! Borsalino! Quanto è bello Borsalino! Magnifico Borsalino! Continuiamo ad aprire. Ciao Manuel! Sicilian. Ah, perfetto. Ok, grazie infinite. Grazie infinite del learning. Del laning, scusami. Allora, la qualità estetica di questo set non è nemmeno comparabile al precedente. Davvero grande salto in avanti. Vero, vero. Soprattutto lo smoker character è un qualcosa di meraviglioso. L'ho amato da subito. Davvero l'ho amato da subito. Deathwing, Crocodile, Doberman, Full Body, Dai Fugo. Mr. One. Io sono Mr. One. A parte per il fisico, sono pelato come lui. Kozuki Toki. Ottimo. Ciao Alessandro! Hanyabal e Monkey di Luffy. Ottimo! Davvero ottimo! No, chiedo scusa. Monkey di Luffy. Ecco, questa è la pronuncia esatta. Ancora non escono carte per quanto riguarda il rosso. Aspetto. Aspetto con ansia. Barba bianca. Mamma mia, lancio un urlo quando esce Barba bianca. Se esce... Proprio Earn Warning. Essendo comunque il mio personaggio preferito. Non so, non lo so se farò un video sulla prossima espansione di Fab. Perché attualmente sono abbastanza impegnato per quanto riguarda il nuovo studio. Quindi ho iniziato a montarlo e quindi ho tutti quanti i video già pre-registrati. Questa live è praticamente un qualcosa che ho inserito a forza. Altro Yozu intanto è un Magellan. Un Magellan. Insomma, andate bene, fate tipo Ace, Manga, portatemi fortuna, cortesemente. Qui intanto c'è un leader. Attenzione, qui c'è un leader. Questo è un leader. Quindi è un leader tosto, sicuramente. Allora, qui molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, c'è la carta bomba. Vediamo qual è. Allora, Atmos, Land of Wano. Dobon. Saul. Django. Moji. Se esce, Barba bianca leader. Vabbè. Mino Koala. Sengoku e... E verde? Kinemon! Molto, molto bene! Molto, molto bene, Kinemon. Bellissimo! Terza, ultima bustina. Intanto togliamo il Don. Trafalgar. Kigdryu. Deathwing. Domino. Usoppa. Fulbori. Gekomoria. Dai Fugo. Makino. Isuka. Shiki. E Kuzan. Sì! Sì! Kuzan! Bello come il sole! Intanto ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Di mettere un pollicione in su. Per supportare il canale. Grazie infinito a tutti. Giriamo e vediamo. Touch qualcosa. New Kamaland. Jimbe. Blenheim. Mesentomaru. Camomille. Giustamente dopo Mesentomaru un po' di Camomille va bene. Kabaji. El Meppo. Makino. World. Mr. 3. E Portgays di Ace. Un'altra carta fondamentale. Non sto più nella pelle. Questa cosa uscirà. Purtroppo non è uscito quello che mi aspettavo. Purtroppo. Molto probabilmente dovrò procedere ad acquisti a parte, separati. Touch sempre Isua. New Kamaland. Ma che cosa sto facendo? Jimbe mi sta andando in pappa al cervello. Blenheim. Tassigi. Don Quixote. Dracul Miok. White Bird. Nico Robin. Bartolomeu. Gum Gum Rain. E... Andiamo avanti. Sto urlando come un ossesso dentro di me. Andiamo avanti. Voglio mantenere una parvenza di eleganza, signori. Allora... Domino. Usoppa. You may be a fool. Saldet. Atmos. Moji. Sentomaru. Mi sto sentendo male io in questo momento. Comil. Mi stanno spuntando i bozzi tipo Homer. Belmer. Boa Hancock. Little Sadie. Cioè, signori. Prime due bustine è uscito. Newgate e Kuzan. Cioè, ma che botta di... Sì, esatto, Daniele, esatto. È andato via l'audio perché... Vabbè. Cioè, io poi... È il mio personaggio preferito. Newgate. Quindi, figurati. Allora. Averlo trovato per me... Rappresenta proprio... L'apoteosi. Dodon. Magura. Venom Road. Nekomamushi. Comil. Kabaji. Tassigi. Oh, Kabaji e Tassigi escono sempre insieme. White Bay. Tsuru. Bartolo Myukuma. Brook. È un altro borsalino. E vai. È un altro borsalino. Ciao, Claudio. Ciao. Ben risentito. Allora. Don. Intanto, fra poco mi chiede pietà anche... Il cestino. Solitario. Dugura. Impel Down. Trafalgar. Full Body. Gekko Moria. Jugger di Saul. Douglas Bullet. Onigumo. Squard. Guarda che sguard. Inazuma. Eeeh, signori, mancava solo lui! Sakazuki! Mancava lui all'appello! Intanto vediamo... Cosa esce qui? E benvenuto anche al Carinci Nazionale. Blugori, Roronoa Zuru, Moby Dick, Sphinx, Wanda, Yamakashi, Strawberry, Croco, Rakuyo, Onigumo, Kobi e Magellan. Un altro Magellan che male non fa. Sì, Frank, davvero, davvero bella roba è uscita. Soprattutto Garp che è magnifico. Davvero. Allora, come puoi counterare Kinemon? Sperandogli contro... Uno Zoro. Dogura. Impel Down. Trafalgar. Kingryu. Deathwing. Gekko Moria. Jugger. Django. Minotaur. Whitebird. Gum Gum. Mamma... Eeeh, signori, mamma mia, signori, la bellezza di questa carta. Signori, la bellezza di questa carta. Ma che spettacolo può essere, Kuzan Alt? Che spettacolo può essere? E' qua un like d'obbligo, eh, signori. Per forza. Ma che spettacolo può essere? Meraviglioso. Sia su Car Market che su Instagram. Che è la pagina Facebook in descrizione. Sì, quel Luffy spacca tanto, questo qui. Questo non è male, eh. Non è male per davvero. Venom Road, signori. Venom Road. Carta davvero molto interessante. Nekomamushi. Touch sempre più suoi. New Kamaland. Kabaji con Tassiji. Eeeh, signori, oramai è una cosa proprio che... Kabaji subito dopo ha Tassiji. Quindi, Donkey Hot. Toki. Morley. Hydra. Signori, qua c'è qualcosa. Ok, un altro Luffy, non è male. Andiamo a vedere. Little Horse. Treesword. Solitaire. Dogura. Doberman. Fudebody. Gekomoria. Ice Age. Nico Robin. Mino Koala. Yamato. Ottimo. Credo di aver concluso anche per Yamato il playset. E un altro Ace. Signori, un altro Ace. Bene, dai. Non è andata male, eh. Per essere il secondo box non è andata affatto male. Anzi, poteva andare peggio. Voi direte, poteva andare pure meglio. Ha capito, però. Insomma. Dogura. Dogura. Impel Down. Trafalgar. Kingryu. Deathwing. Soul. Django Nadosdango. Minotaur. Donkey Hot Doflamingo. Diablo Jump. Eccetera, eccetera. Banghi e Ivankov. Molto bene. Emporio Ivankov. Non male. Davvero non male. Assolutamente sì, Giovanni. La migliore. In OP01, mi sembra, no? No. In OP02 si trova. È vero. La versione quella alt. Bellissima, sì. Davvero. Donna via. Deathwing. Domino. Usoppa. You may be a fool, but I still love you. Cell Death. Doberman. Full body. Ice Age. Nico Robin. Mino Koala. Seaquake. E... Signori, signori, borsaleno! Venom Road. Neko Mamushi. Touch. Sempre più sua. New Kamaland. Jimbe. Moji. Sentomaru. Donkey Hot. Diablo Jump. Venison Shoot. Douglas. Mr. 3. E... Un altro Magellan. E sono arrivato a tre Magellan. Little Horse. Tree Sword. Solidario. Dogura. Dracul. Ciao Matteo. Ciao. Yamakashi. Strawberry. Minotaur. Belmer. Makino. Baggie. Signori, un altro Sakazuki. Un altro Sakazuki. E sono a quota due anche per quanto riguarda Sakazuki. E quindi mi trovo a... Due Sakazuki mancanti. All'appello. Il donna va via. Sphinx. Wanda. Impel Down All Star. Frankie. Little Horse. Tassigi. Rosinate. Dracul. Mioc. Kuma. Kuma. Inurashi. Mascot. Kuma. Signori. Signori. Sakazuki Alt. Sakazuki Alt. Guardate quanto è bello Sakazuki Alt. E' ovvio che Zoro lo hanno un po'... Allora, io l'ho già detto ai signori di Loop Game. E loro potranno confermare questa mia ipotesi. Zoro sarà l'arrivo, rappresenterà l'arrivo della Bannered List che vedremo, credo, fra poco, fra pochissimo, qui in game. Kingdryu, Deathlink, Wink, chiedo scusa, Domino, Usoppa, You May Be A Fool, but I Still Love You, Doberman, Full Body, Gekomoria, Onigumo, Mr. One, Mr. Two e Uta. Molto bene, un'altra secret, signori. Un'altra secret, Uta. E quindi adesso me ne mancano due di ognuno. Anche di Seaquake credo di aver completato il playset. Carta davvero utilissima per chiunque voglia montarsi un mazzo. Barba Bianca. Dodon. Magura. Venom. Nekomamushi. Soul. Django Nado, sempre, Biusdango. Moji. Sicilian. Arabesque Brick. Mino Koala. Gungum Rain e Luffy. Perfetto. Vediamo, vediamo. Vediamo come va. Vediamo come va. Incrociamo le dita, incrociamo le dita. Solitaire. Dogura. Impel Down. Trafalgar. Yamakashi. Strawberry. Croco. World. First. Inurashi. Perfetto, signori. E proprio. Signori, mi raccomando, se ancora non lo avete fatto, pigiate sul tasto iscriviti, tanto è gratuito, non costa niente. E date una mano al canale a salire. E andiamo a vedere cosa riserveranno, signori, cosa riserveranno queste quattro bustine. Tanto donna sempre da parte. Venom Road. Nekomamushi. Touch. Sempre più suoi. New Kamaland. Django. Moji. Sentomaru. Dadan. Inurashi. Mr. One. Mr. Two. Oh, oh, guarda un po' chi si vede. Vediamo un po'. Questi ultimi tre pacchetti cosa ci regaleranno. Impel Down All Star. Furenghi. Little Horse. Tree Sword. Donkey Hot. Dracul. Yamakashi. El Meppo. White Bay. Tony Tony Chopper. Inazuma. Ma è Nami. Nami Verde. Donna a parte. Touch. Oramai lo sapete di chi. New Kamaland. Jimbe. Blenheim. Kabaji. Tassigigi. Rosinate. Morley. C'era Kabaji, vero, prima? Kabaji, Tassigi. Nico Robin. Ice Age. Gong Brain. E Kozuki Oden. Allora gli porto direttamente i doppioni, così almeno... Ne ho cinque. Ne sto sbustando quattro, Emanuele. Uno è stato messo all'interno. Magari, biga, magari, guarda, veramente. Magura, dicevo, Emanuele, uno l'ho messo all'interno del case di Plexiglas. Venom Road, Nekomamushi, Sentomaru, Komil, Kabaji, Whitebird, Nico Robin, Bartolomeu, Brook e Borsalino. Perfetto, perfetto, perfetto. Perfetto. Nel retro si vede anche di più, poi lo controlliamo con calma. Ricordamelo quando ho finito di fare il box break, che lo controlliamo con molta, molta calma. Allora, Blue Gory, Roronoa, Moby Dick, Sphinx, Wanda, Dracul, Yamakashi, Strawberry, Makino, Diablo Jump, Kobe e Magellan. Dai, signori, ci riusciamo ad arrivare a 70? Dai, dai. Basta un click, basta solo un click. Solitario, Dogura, Impel Down, Trafalgar, Doberman, Full Body, Gekomoria, Whitebird, Dai Fugo, Mr. One, Inazuma e Sakazuki. Molto, molto bene. Vediamo, Venom Road, Nekomamushi, Touch, Land, Camomilla, Kabaji e Tassigi, perfetto. Chopper, Elmeppo, Makino, Garp e, a posto, fantastico, Luffy. Vediamo qui. Domino, Usoppa, Umebi e Fulbra, I still love you, Saldet, Atmos, Django, Moji, Sentomaru, Sicilian, Arabesque, Little Sadie... Mi sta venendo da piangere. Piano, 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 Piano. Signori, signori, l'abbiamo preso! Sì! Sì! Ehi, smanga! Ehi, smanga! Ehi, smanga! Preso! L'ho preso! Quanto è bello, ehi, smanga, signori! Come direbbe anche un calciatore famosissimo. Sì! E qua, mi dispiace, ma praticamente la signorilità si è andata a far benedire, ma, signori, Ehi, smanga! Ehi, smanga, signori! Bellissimo! Bellissimo! Bellissimo, Ehi, bellissimo! Mamma mia, signori, non poteva andare meglio questa live! Non poteva andare meglio, signori! Ehi, smanga! Signori, ehi, smanga! Per me sì, possiamo tranquillamente chiudere qui. No, signori, incredibile, davvero, davvero incredibile, signori. Devo valutare per bene cosa farci, devo valutare per bene, davvero per bene cosa farci, perché l'idea principale era quella di venderla. L'idea principale era quella di venderla, però la tengo al momento, quindi un attimo che faccio che... Signori, allora, un like e iscrivetevi, per favore, perché abbiamo trovato Ehi, smanga! Mamma mia, signori! Molto probabilmente sì, la manderò a gradare, ma ci andrò di persona. Farò il servizio quello in un giorno, e sta a posto così. Buggy e... Vabbè, io posso chiudere tranquillamente qui, e niente, va bene, va benissimo. Questo è il box, questo è il box della vita, questo è il box della vita! Ho preso anche il secondo Newgate. E adesso vediamo ultime due bustine, e poi procediamo all'inserimento di tutte le carte all'interno del raccoglitore. Dogura, Impel Down, Trafalgar, Kickdrew, Deadwing, Full Body, Gekomoria, Soul, Onigumo, Squard, Guarda che sguardo, GOMGOM RAIN, e... Vabbè, regà, vabbè. Vabbè. Sì. Ok. Va bene. Sì, sì, no, 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 va bene. No, perché sì. No, ho preso il box più bello del mondo. Sì, sì, infatti, biga, veramente, cioè, non... Dillo più spesso, ma veramente dillo più spesso. Vediamo quest'ultimo pacchetto cosa ci riserva, dopodiché... Signori, qui è brodo di giuggiole. Qui è veramente un brodo di giuggiole. Little Horse, Treesword, Solitaire, Dogura, Crocodile, Doberman, Full Body, Minotaur, Donkey Hot, Diablo Jump, Yamato, e... Cioè, quando la fortuna ci si mette di mezzo, quando la fortuna ci si mette di mezzo, meraviglioso, meraviglio, meraviglio, so, davvero il miglior box d'Italia. Vi sfido a dire il contrario. In questo box ho trovato Nami Alt, Oden, Sakazuki, Borsalino, Luffy, Magellan, Ace, Newgate, e signori, Ace, Manga, la carta più rara del set. E anche ovviamente la più costosa. Ace, Manga, signore e signori. Ha reso conto totale dei quattro box per il verde. Nami Alt, Nami, una, due, e due Kozuki, Oden, assieme a Kinemon, il leader. Per quanto riguarda il blu, il playset per Luffy, eccoli qua, e tre copie di Ivankov. Per quanto riguarda il Viola, è uscito il playset di Magellan, e Magellan Alt, assieme ovviamente alla Secret Uta. Per il nero, sono uscite un sacco di SR, il playset di Borsalino è uscito tutto. Eccolo qua. Mi sembra che siano uscite... Allora, di Sakazuki è uscito uno, due, tre, perfetto, e quattro. L'Alt di Sakazuki, quindi praticamente un playset finto, per quanto mi riguarda, perché sono un collezionista di carte standard. poi un binomio di Kuzan, sia normale, ve lo faccio vedere, sia normale che Alt, credo che anche lui mi terrò, perché è veramente bellissima questa illustrazione, davvero magnifica. Un Garp, anche lui bellissimo, spettacolare, e un Kuzan. Per quanto riguarda invece il rosso, abbiamo due Edward Newgate, tre Ace, ne avevo uno, quindi ho completato il playset per quanto riguarda Ace, e signori, ancora una volta, il port gas di Ace, manga, che va praticamente a coronare questa grandissima sbustata. E così la tanto desiderata Ace, versione manga, ha fatto la sua comparsa durante la diretta, facendo impazzire gli spettatori, e a me facendo perdere la voce. Ma ne è valsa davvero la pena. L'emozione di aver trovato un pezzo così importante della collezione, il più importante, mi ha fatto provare un'esperienza davvero unica, che mi auguro di rivivere assieme ad ogni singolo sostenitore del canale, magari nell'OP03. E voi, siete d'accordo con me nel dire che ho aperto il miglior box d'Italia? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.